good morning in genova dove eravamo rimasti siamo rimasti che questa sarà una settimana importante una settimana d'argento una settimana per le pantere grigie allora le pantere grigie chi sono sono considerati gli over gli ex ragazzi diciamo degli anni del boom quelli che hanno sopra i 60 anni sopra i 70 anni ma anche quelli un po più grandi quindi chi di anni ne ha già 80 e anche 90 perché questa comunque una regione di persone di lunga di lunga vita ecco comincia la stagione dei vaccini anti covid per gli over 80 e questa è una buonissima notizia è una buona notizia perché proprio la popolazione più anziana è stata la più duramente colpita ancora adesso i contagi riguardano soprattutto i più anziani per cui è importante che questa stagione dei vaccini cominci cominci presto si concluda anche presto e ci fa anche piacere che per esempio faccia da testimonial l'architetto renzo piano che di anni ne ha compiuti 83 quindi è pienamente nel nel diritto di ricevere il vaccino tra i primi e soprattutto di convincere quelli che non sono convinti che invece il vaccino va fatto ma c'è un altro vaccino importante di cui ci fa piacere parlare ed è il vaccino della cultura per non invecchiare la cultura per non invecchiare significa aver sempre voglia di imparare di conoscere di mettersi alla prova ecco siccome si può fare si può fare non è vero non si è mai troppo vecchi neanche per imparare le cose digitali in attesa di poterle tornare a fare in presenza beh volevamo anche dirvi per esempio che good morning in genova e farà una volta alla settimana insieme all'unite cioè l'università della terza età quindi l'università di genova un incontro sarà il martedì dalle 12 alle 13 e ci saranno tante cose di cui parlare saranno degli incontri in cui si parlerà di cultura si parlerà di genova si parlerà di tanti aspetti magari da approfondire che non si possono immaginare e essendo io quasi una pantera grigia vi darò una mano a fare questa strada e quindi ricordiamoci di questo non si invecchia finché si ha voglia di conoscere finché si ha voglia di vivere davvero e senza guardare l'anagrafe good morning